Amici e amici di Volumbrite, siamo qui e cominciamo le prime interviste agli atleti di questo Giro d'Italia di Handbike. Se ti va di presentarti ai nostri ascoltatori. Certo, ciao a tutti, io sono Catania Marco e sono atleta Handbike della società Sportabili di Alba. Oggi siamo qua, abbiamo fatto l'ultima tappa del Giro d'Italia di Handbike, insomma sono soddisfatto del risultato anche se l'ultima gara della stagione mi aspetta un po' di più. Insomma ci siamo divertiti, percorso bello, organizzazione perfetta, non c'è niente da dire. Come è andata l'organizzazione di questo evento? Come vi siete preparati nel vostro circolo? Allora quest'anno abbiamo iniziato la preparazione con un preparatore vero e proprio, abbiamo iniziato però già stagioni inoltrata, quindi i risultati abbiamo cominciato a vederli adesso nell'ultimo mese. Ora faremo una preparazione invernale in vista della prossima stagione, vedremo poi il prossimo anno. Mentre invece questa gara è stata veramente bella, ha percorso bellissimo, veloce, poco pericoloso, insomma veramente una bellissima organizzazione. Complimenti agli organizzatori. Potremmo chiederti quindi il tuo circolo sportivo Sportabili? Sì, allora è Sportabili di Alba e si occupa di vari sport, tra cui l'embike, c'è anche l'equitazione, il nuoto, lo sci, insomma si occupa di sport veramente a 360 gradi. Fa tantissime attività, tantissime iniziative e niente, ci permette di fare tutte queste gare in giro per l'Italia e appoggiandoci proprio a livello economico, di iscrizioni, di alberghi, di logistica, di tutto, quindi veramente ringrazio la mia società Sportabili di Alba. Posso chiederti futuri progetti, futuri obiettivi? Diciamo che come al momento il sogno di ogni atleta è arrivare alle Olimpiadi, però è quello lì un territorio veramente quasi inarrivabile, perché il livello è altissimo, ci sono persone che si allenano anche sette giorni alla settimana, e arrivare a quei livelli, però uno lo fa con quella speranza lì, magari fra un paio d'anni chissà tutto può succedere. Altrimenti continueremo a fare queste gare, divertirci tra noi, trovarci nel doppogare, discutere delle gare, insomma stare bene, stare tutti quanti insieme divertendoci. Grazie mille, davvero, con la speranza appunto di vederti crescere, di rincontrarti in un'altra gara. Speriamo, grazie a voi. Grazie a voi.